Ciao, sono andato col bubbi, eh? Non potete vedere, Marco, come si mette sul lavoro con quei tettini? È proprio quello che sto facendo vedere. E il pallo è proprio grosso. Cosa cerchi? Cerchi gli occhiali. Ah, gli occhiali, vabbè, intanto non è che di lui. Sì, beh. Mi vuoi? Mi vuoi? Mi vuoi? Mi vuoi? Mi vuoi mettere abbastanza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.